Vigilia di campionato con Gerard Esposito, Basket Bellizzi impegnato domani, Gerry sul campo di Nola affronterete un avversario ancora fermo al palo, riduce da tre sconfitte su tre partite giocate ti chiedo però come va affrontata la parte vostra questa partita? Va affrontata in modo concentrato, pronti a fare le cose che ci dirà Nino durante la partita e giocare soprattutto per 40 minuti Contro Maddaloni è arrivata un'ottima prestazione sia in difesa che in attacco possiamo dire che la fase di rodaggio è terminata e che siete definitivamente pronti ad affrontare questo campionato? Siamo pronti ad affrontare questo campionato ma non ancora prontissimi noi ogni giorno lavoriamo per migliorare le nostre lacune Contro la formazione casertana sei stato comunque l'elemento maggiormente utilizzato da coach Sanfilippo quasi 30 minuti sul parquet per te questo vuol dire che la forma fisica piano piano sta crescendo sempre di più? Sì stiamo crescendo tutti, io mi sento bene, sto bene per cui sono pronto a giocare questo campionato fino alla fine Angri partendo poi a Cedri sono a punteggio pieno le protagoniste dello scorso torneo sembrano dunque confermarsi anche quest'anno Sì sono squadre che hanno allestito un roster di tutto rispetto credo che fino alla fine daranno battaglia a tutte le squadre per arrivare sicuramente nei primi tre posti del campionato Sarà un campionato lungo e difficile ma Bellizzi dove vuole arrivare? Sarà un campionato lungo e difficile e Bellizzi vorrà dare fastidio a tutte le pretendenti per poterlo vincere questo campionato